Hiha ragazzi, bentornati e bentornati sul mio canale, io sono Magnus Ok, ci resta l'ultima partita da affrontare per riuscire a finalmente arrivare nella settima divisione Ci mancano variegate due punti, quindi dobbiamo per forza vincere O vinciamo o vinciamo, se no rimaniamo sempre nell'ottava divisione Ok, quindi andiamo alla ricerca del nostro nuovo avversario Ok, avversario trovato, sembrerebbe alla nostra portata, speriamo bene Quando iniziano sempre con questo punteggio così basso, io mi preoccupo sempre Abbiamo cambiato anche il colore della maglia Ci portasse un po' sfiga il colore della maglia bianca, non lo so Ok E vabbè, però se lo dici così iniziamo già alla grande a portarci Sfortuna Iniziamo Gonzalo, iniziamo a mangiarci goal La metto in mezzo perché Nooo, mamma mia, ma che ti sei mangiato Vediamo se la riusciamo a dare a qualcuno Vai Madonna, ma perché? Ma perché? Non è possibile No, dai, per cortesia, dai Ah E dai, ma no Ragazzi, fatemi vedere, fatemi vedere, smarcatevi, smarcatevi, cazzo E tira Tira, ma non si può giocare così, dai Non tirano mai Hai sbagliato la palla Niente da fare Ecco qua, questo è un altro fallo Ma dove? Ma quando? Ma chi ha fatto il fallo? Sì, vabbè, dai, ma non si può giocare Questo, eh, vabbè Questo che stacca di testa è sbaglia Vai Gonzalo, vai, fatti vedere E fatti vedere, vai Eh, ma no a lui Tira E andiamo, mamma mia Dai, dai Vai, vai, vai E tu sei anche veloce Ma come hai tirato? Madonna Una pietra Ma che si dispera? Questi ci fanno la frittata, sicuro Vai, portiere, che tu Portiere, portiere Ma come fai a non bloccare una palla del genere? Il portiere senza problemi su una conclusione molto violenta Ha visto partire la palla Ma è stato bravo a non lasciarsi comunque ingannare Nella traiettoria del tiro Nooo Vabbè Eh, gran tiro Ecco, andate qua Guardate là, vabbè Non riesco mai a fare niente Ecco qua Come ha segnato? Cioè, questo è stato un gol di culo Perché praticamente l'ha preso Come l'ha presa? Cioè, lo voglio dire a replay Perché non ho capito come ha segnato praticamente Ah, di petto ha segnato Fantastico No, no Ecco qua Bravo, bravo Dai ragazzi che siamo quasi arrivati Attenzione Vediamo di non fare nessuna pisciatella Vediamo di non fare nessuna pisciatella Come al solito Sperando che non sbagli Qualche passaggio Vai Gonzalo Va Ma no Ma come si fa? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, portati questa palla Fino in fondo Vai in porta Tira Tira Niente proprio E ragazzi Qualcuno che va sulla palla Niente Ah, finalmente è finita Abbiamo vinto E siamo riusciti ad arrivare in settima divisione Ragazzi Porca miseria Mamma mia Questi non sono giocatori Sono proprio inchiodati a terra Fatemi vedere il numero 7 Aspettate un po' 13 punti Per un solo punto Che gran culo Che gran culo Ok ragazzi I punti raggiunti Come vedete Settima divisione L'abbiamo raggiunta Spero come sempre In questo video vi sia piaciuto Non mi chiedete sempre di commentare Mi chiedete sempre di mettere mi piace Noi ci vediamo Nel prossimo video E bye bye Ciao